Il Presidente della Repubblica per la fiducia manifestata nei miei confronti e nei confronti della maggioranza che mi sostiene. Mi presenterò alle Camere per il voto di fiducia, nei tempi più rapidi possibili, con uno slancio rinnovato di una coalizione coese e decisa ad aiutare il Paese in questo difficile passaggio e a spingere verso la ripresa economica che è in atto. Grazie. In queste condizioni è apparso chiaro che non vi sia allo Stato una concreta alternativa a un rinvio, nonostante il parere contrario nel merito dei gruppi di opposizione, del Governo di missionario in Parlamento per la verifica, attraverso un voto di fiducia, del sostegno anche in Senato della necessaria maggioranza politica. Tale accertamento potrà essere compiuto in tempi brevissimi, in modo da consentire, in caso di superamento della prova della fiducia, un immediato ristabilimento della normalità dell'azione di Governo e dell'attività parlamentare. Grazie.